buongiornissimo caffè dalla redazione di breaking italy oggi è 29 ottobre 2024 e questo è grandi linee il podcast che dal lunedì al venerdì vi racconta ciò che sta accadendo nel mondo io sono chiara laissanna io sono leonora camba io sono alessio kerchi vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie quindi vi prego di essere clementi con noi altri e che tra una mezz'oretta avrete una chiara idea di ciò che sta succedendo partiamo e partiamo dall'italia iniziamo dando un breve aggiornamento sulle elezioni regionali in liguria che si sono tenute fra domenica e lunedì in liguria i cui risultati sono arrivati nel tardo pomeriggio sempre di ieri e hanno visto primeggiare il candidato del centrodestra marco bucci che era sostenuto da una coalizione di sette liste tra cui figuravano anche i tre principali partiti di governo conosciamo ormai tutti fratelli d'italia lega forza italia pensavo ver di sinistra però mi è sorpreso vedi mai non adagiatevi mai sono sempre qua per sorprendervi comunque bucci ha vinto con il 48,4 per cento delle preferenze si sta parlando molto di queste elezioni non solo perché comunque sono importanti in generale ma anche perché bucci ha vinto con solamente meno di un punto percentuale di distanza dal suo sfidante andrea orlando e come mai e allora adesso ci andiamo un attimino con ordine nel senso per essere precisi intanto vi volevo dire che quindi le preferenze per orlando si sono attestate al 47,6 per cento dei voti vorrei anche ricordare a chi magari potesse averlo dimenticato perché in italia i governi vanno e vengono come i venti che orlando è stato anche ministro è un parlamentare del partito democratico quindi comunque lo conosciamo da tempo ed è stato ministro delle politiche della scusate del lavoro delle politiche sociali durante il governo draghi non è il primo arrivato insomma esatto non è il primo arrivato quindi tutto questo per arrivare a parlare di una delle cose che la sinistra ama di più e sa fare anche meglio disgregarsi l'analisi della sconfitta c'eri quasi c'eri quasi però apprezziamo l'entusiasmo e dicevo a onore del vero in realtà si parla di un exploit in positivo del partito democratico perché avrebbe ottenuto oltre il 28 per cento delle preferenze attestandosi come il partito preferito nella regione ha praticamente doppiato i voti di fratelli d'italia per intenderci che però era ben coeso con i suoi partiti amici esatto esatto è una cosa che la destra sa fare molto bene rimanere unita e se anche non rimane unita è sicuramente l'impressione che riesce a dare all'esterno e comunque ci serve un po' una proiezione di sicurezza ogni tanto soprattutto in questo paese ma si tornando a noi e soprattutto quindi alla domanda che facevi al come mai è accaduto si parla tantissimo di come la responsabilità di quanto accaduto insomma di questi risultati si possa imputare al movimento 5 stelle ma che mi sembra abbiano fatto un risultato straordinario in queste regionali a Liguria straordinariamente basso perché sono non sono riusciti neanche a superare il 5 per cento hai già una riflessione su quello che sta accadendo internamente al movimento e che si sta poi poi proiettando altrove qui siamo davvero a livello azione italia viva verdi sinistra cioè stiamo proprio scavando sotto molto ok vorrei ricordare anche ai nostri seguaci ascoltatori come li chiamiamo i nostri fedeli bimbi di grandi linee ai bimbi alle bimbe di grandi linee grandi linette carino linette e linetti apprezzo torniamo un attimo serie diciamo queste cose come stanno volevo portare la vostra attenzione sul fatto che il campo il cosiddetto campo largo esiste ancora nella misura in cui il pd comunque era presente in una coalizione dove c'erano appunto alleanza verdi sinistra quelli che avete nominato anche voi adesso ma non c'era più appunto il movimento 5 stelle che era uscito per decisione di giuseppe conte suo leader perché schline la segretaria del partito democratico aveva appunto aperto il campo largo per farlo diventare larghissimo e contenere la gran personalità di renzi e quindi siccome aveva deciso di includere anche renzi allora quale modo migliore per accumulare voti della sinistra che scindere l'atomo della sinistra del centro sinistra volevi dire vero disperdersi per tutta italia peraltro una situazione di conflitto che va avanti in realtà da molto prima di questa decisione di includere renzi quindi non vanno molto d'accordo da un bel po questo campo largo non so se sia mai esistito se sia una proiezione delle nostre menti in parte forse sì in parte forse credo che esista solo nelle loro menti perché noi non l'abbiamo ancora visto a proposito della maretta che c'è già da un po ormai comunque fra il partito democratico e il movimento 5 stelle c'è da dire che proprio in questi giorni appunto si è acuito questo scontro e non so se è stata una mossa geniale considerato che grillo è ligure e vive in liguria ed è piuttosto noto in liguria insomma non ho ancora cercato ci sono stati commenti o reazioni da parte di grillo ma poi lo farò perché sono molto curioso comunque tra l'altro se in generale c'è stato diciamo uno sfregio particolare nei confronti del movimento in realtà se ci pensiamo un po tutto il centro sinistra che ne esce sconfitto perché queste elezioni erano maturate sulle ceneri del centrodestra ligure nel senso ciò che ne rimaneva dopo il grandissimo scandalo legato alla presidenza toti che ha patteggiato con la procura di genova per i reati di corruzione impropria e finanziamento illecito se avessimo avuto c'erano ecco c'erano come se avessimo avuto una vera sinistra sarebbe stata una vittoria facilissima probabilmente sì però c'è da dire che a quanto pare l'astensionismo è stato molto alto secondo alcune proiezioni da tutti i lati e quindi insomma per mantenere vedi una certa stabilità italiana possiamo dire che anche stavolta l'astensionismo ha probabilmente vinto col suo oltre 50 per cento il vero vincitore delle preferenze passiamo agli esteri dunque vi do giusto un aggiornamento sulla georgia dove ci sono state le elezioni lo scorso sabato ne parlavamo ieri poi procediamo con gli states dunque il premier ungherese orban è arrivato in georgia per congratularsi con il partito che almeno formalmente ha vinto le elezioni di sabato cioè il sogno georgiano e nello stesso giorno quindi ieri decine di migliaia di cittadini si sono riversate nelle strade della capitale di tibilisi ieri notte dopo che la presidente aveva appunto invocato questo tipo di mobilitazione esatto la presidente aveva rilasciato un'intervista ha fatto una conferenza stampa domenica e aveva detto di non riconoscere il risultato delle elezioni invitando anche cittadini e cittadine a scendere in piazza infatti molti di loro hanno fatto spesso con un mantello con la bandiera dell'unione europea che appunto ha avuto un ruolo significativo in queste elezioni procediamo negli stati uniti perché c'è un tema di cui si è parlato tantissimo tra domenica e lunedì cioè il comizio di domenica di trump a new york che si è contraddistinto per uscite di neanche tanto velato razzismo e sessismo e che si ipotizza possa anche danneggiare significativamente la campagna elettorale proprio del candidato repubblicano allora è stata una roba inqualificabile ho visto alcuni spezzoni ho letto i resoconti una roba veramente indegna ma non credo li danneggerà minimamente neanche di mezzo punto percentuale questo è un po lo stesso tipo di commento più o meno lo stesso tipo di commento che volevo fare io cioè ti volevo chiedere prima di vedere se ci saranno dei danni dimmi un po cos'è stato detto perché non è così straight forward vero poi affrontiamo anche quel discorso allora durante il comizio ha parlato il comico tony hinchcliffe che ha sostanzialmente parlato di porto rico come un'isola galleggiante di spazzatura vabbè che l'ho visto poteva evitare l'ho visto quel pezzo a me sono venuti abbastanza i brividi a guardarlo e mi sono chiesto come lo si potesse trovare così divertente ma come ti possa venire in mente ma soprattutto è un comico regà è un comico doveva far ridere a parte che stiamo strumentalizzando i comici per la politica questo è tutto un altro discorso gli stati uniti strumentalizzano l'entertainment da una vita per la politica nel senso non è una novità il punto è che l'importanza è che bisogna darla al contesto fuori da una convention di quel tipo magari in un suo spettacolo di stand up allora avrebbe avuto anche un suo senso a seconda di come lo dicino ma in quel momento dire che porto rico è un'isola di spazzatura non aveva alcun senso logico se non andare a rimestare nei sentimenti della base elettorale di trump ecco sì io mi dissocio comunque no vabbè sono sono d'accordo nel senso che si può scherzare su certe cose con una certa sensibilità con il contesto assolutamente non in qualsiasi contesto comunque detto ciò anche ricalcato degli altri stereotipi razziali e dopo questa uscita sia bad bunny ce l'avete presente certo io lo adoro è stato l'artista più ascoltato tipo al mondo tra il 2020 2022 un po di endorsement a bad bunny e anche ricky martin che invece non ha bisogno di presentazioni che sono appunto entrambi entrambi i portoricani hanno formalmente appoggiato harris come chiara reazione rispetto alle affermazioni fatte all'interno appunto del comizio beh certo effettivamente se fossi bad bunny sapendo che sono uno dei più ascoltati al mondo la prima roba che faccio è cercare di spostare voti effettivamente cioè in questa economia politica non vedo altro non vedo altra azione possibile peraltro lui l'artista più ascoltato al mondo sino il 2022 e poi chi è arrivata Taylor Swift che pure comunque abbiamo visto partecipare a suo modo in queste elezioni vabbè ora comunque sappiamo anche che gli endorsement valgono quel che valgono nel senso tutto l'entertainment aveva endorsato Clinton eppure non mi sembra che abbiamo avuto 4 anni per lamentarci di Hillary Clinton che comunque motivi ce ne avrebbe dati sicuramente poi attenzione ci sono endorsement endorsement cioè il livello di coinvolgimento elettorale di un Elon Musk ovviamente è andato oltre il semplice endorsement e quindi pensa se dietro il peso comunque dell'immagine di Taylor Swift ci avesse messo anche le risorse che ci ha messo Musk sarebbe stato molto diverso qua si parla sempre di endorsement e basta io sostengo Harris io sostengo Trump esatto comunque ci sono state anche altre uscite che hanno fatto all'interno di questo comizio un altro comico non è vero un imprenditore però evidentemente si sentiva comico in quel momento che è Grant Cardone che ha parlato dei papponi di Harris che distruggeranno il paese rappresentando Harris come una sex worker che in base alla retorica conservatrice potrebbe rappresentare un insulto per loro ecco non so cosa dire non so cosa dire è successo anche qui se la mia faccia ha parlato non lo so noi ascoltiamo sempre con piacere la tua faccia questa sinestesia esatto bella questa sinestesia vabbè allora ora arriviamo però alla ciccia no quindi perché questa cosa si ipotizza possa avere un impatto sulle elezioni perché la comunità portoricana negli Stati Uniti è molto molto ampia si parla di 5,7 milioni di portoricani abbastanza numeroso direi decisamente esatto quindi diciamo che c'è una certa rilevanza della comunità e si parla soprattutto della Pennsylvania in cui pare che appunto la comunità portoricana si ampia che sta offrendo 19 grandi elettori e rappresenta uno swing state per questo molto cruciale portoricani che attenzione una buona percentuale prima sosteneva il partito repubblicano quindi adesso la cosa non è più così scontata quindi attenzione esatto comunque il comitato elettorale di Trump si è reso conto effettivamente di aver cagato fuori dal comizio diciamo così e ha proprio pubblicato un comunicato ufficiale dissociandosi dalle parole del comico in particolare perché sti cazzi delle sex worker i portoricani ci votano e quindi i papponi di Kamala Harris va tutto bene però isola di spazzatura portorico no sbagliato no dai allora in realtà non so se effettivamente hanno fatto questa distinzione non mi sorprenderebbe però esatto non mi sorprenderebbe perché si sono resi conto che che i portoricani effettivamente possono spostare dei voti in questo momento ok però appunto come dicevate voi non è esattamente l'ago della bilancia in questo momento qua siamo d'accordo per parlare di endorsement dobbiamo citare anche il WAP cioè il Washington Post decisamente che sarebbe l'attestata di Jeff Bezos fondatore di Amazon cosa è successo che il WAP aveva dichiarato che non avrebbe preso parte in queste elezioni con un suo endorsement ok che comunque è una scelta che per il WAP ha un significato anche perché è sempre stato particolarmente critico esatto poi attenzione era pronto un editoriale a sostegno di Kamala Harris ma Bezos l'ha bloccato quindi non è tanto che il giornale non volesse appunto dare il suo endorsement ma che Bezos ha proprio pestato puntato i piedi e ha detto no il Washington Post non sosterrà Harris non sosterrà Trump si manterrà neutrale nonostante il board di giornalisti avesse già preparato un articolo un editoriale a sostegno di Harris quindi è stato pesante è stato cioè è stata anche una decisione non presa bene da tutti proprio perché appunto non tutti condividevano all'interno del direttivo questa scelta infatti tre componenti si sono dimessi e oltre questo migliaia di iscritti hanno annullato il proprio abbonamento dopo questo annuncio da parte del Washington Post 200 mila leggevo nell'articolo che ho letto io sì può può essere migliaia di iscritti erano tipo 200 mila iscritti pari all'otto per cento delle persone che pagano il Washington Post che è tantissimo è tantissimo è tantissimo Bezos comunque si è pronunciato in merito e ha detto che appunto è una decisione fatta per non mettere i lettori nelle condizioni di subire dei bias e nel permettere loro di sviluppare un parere scevro da appunto delle influenze che l'attesata poteva dare poi non so io tendo a credere che Bezos non sia particolarmente scevro da opinioni politiche lui stesso quindi insomma ma credo che nessuno quello però è una posizione che secondo alcuni vuole in qualche modo ingraziarsi Trump in questo momento nell'eventualità in cui è appunto venisse letto che come sappiamo non è un'eventualità così remota sì vedo che le persone stanno già facendo i remagi portando i doni verso la mangiatoia di Trump io credo che tutti quanti come del resto vi ho detto anche in altre occasioni occupino un ruolo in questa società e nel momento in cui Bezos ha dei forti interessi economici per diverse aziende che sono celebri e producono in tutto il mondo semplicemente stia facendo il ragionamento che un imprenditore deve fare non si deve mettere contro la politica quindi non fare un endorsement né all'una né l'altra parte gli avrebbe dato la tranquillità di poter interagire di potersi interfacciare con un'amministrazione Trump senza il peso di aver provato a dare detrimento alla sua candidatura quindi io credo che sia tutto molto regolare non ci vedo niente di strano per quanto possa essere triste soprattutto per quanto riguarda la redazione perché leggevo che c'erano persone appunto messe lì dalle alte sfere che hanno portato avanti queste scelte e altre che invece ovviamente non vi ci sono riviste un'altra cosa che vorrei aggiungere è solamente il fatto che io non ne posso più di questa retorica del il giornalismo deve essere imparziale scusatemi ma una volta che sono stati dati fatti secondo me è giusto che i giornalisti diano le proprie opinioni quindi posso è anche per questo che capisco la reazione della anche della redazione del Washington Post però scusa però l'ansia non ho capito l'ansia l'ansia si è imparziale ce l'ha con tutti noi l'ansia dell'ansa va bene passiamo al clima dunque torniamo ad alimentare la nostra ecoansia perché in questi giorni si sta svolgendo la cop 16 sulla biodiversità a cali in colombia ci sono un paio di riflessioni interessanti su cui vale la pena discutere anche se forse non per i motivi che potreste pensare di cui stiamo parlando innanzitutto cop sta per conference of parties ed è la riunione dei rappresentanti di tutti i paesi firmatari di una determinata convenzione in questo caso la convenzione sulla biodiversità firmata nel 92 che ha detto semplicemente impegna i paesi nel tutelare la diversità biologica la diversità biologica gestisce e regola come trovare un equilibrio nello sfruttamento di queste risorse planetarie bene ora ogni due anni siamo a sedicesimo incontro ci si riunisce appunto per discutere lo stato del pianeta negoziare accordi e in teoria fermare la distruzione della nostra biosfera in teoria in pratica in pratica non sta funzionando niente nulla di nulla tutto sta andando a fuoco e adesso vedrete perché si tratta di un incontro particolarmente importante stavolta perché in realtà il primo da quando nel 2022 in canada si riuscì miracolosamente a trovare un accordo storico che mirava a fermare la distruzione degli ecosistemi poi mi sto tenendo volutamente vago sui punti perché non abbiamo il tempo però basti sapere che stavolta era il momento di guardarsi in faccia insomma e valutare a che punto si è arrivati nella risoluzione di questi accordi e circa l'80 per cento delle nazioni si è presentato la copp a mani vuote in realtà e se in molti casi la cosa è giustificata ad esempio il brasilia ha una biodiversità enorme bisogno di più tempo ovviamente per elaborare un piano decennale importante il collo di bottiglia in molti casi è la montare di risorse finanziarie necessarie per mettere in essere i cambiamenti comunque la copp terminerà venerdì 1 novembre avremo a quel punto un'idea più chiara di cosa sia stato deciso e come ma sino a quel momento abbiamo già un report interessante di cui discutere perché insieme alla copp è stato presentato appunto un report che mostra come circa un terzo delle specie arboree del mondo quindi gli alberi banalmente sono a rischio di estinzione e la cosa è molto molto preoccupante perché la quantità di specie animali fungine altre piante che dipendono dagli ecosistemi forestali è letteralmente incalcolabile parliamo di un sistema estremamente delicato che regola il ciclo dell'acqua dei nutrienti e del carbonio senza neanche entrare nell'ambito di quante comunità umane a livello planetario dipendono direttamente dagli alberi per la loro vita e il loro sostentamento sto guardando l'eco ansia direttamente negli occhi e non mi sento benissimo sì 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 no è preoccupante il report ha analizzato circa l'ottanta per cento delle specie note e ha trovato come circa il 38 per cento di queste sia a rischio di estinzione è un report enorme a cui ne ho partecipato più di mille esperti che hanno identificato come i pericoli maggiori vengano da agricoltura urbanizzazione e per forza di cose anche abbattimento diretto degli alberi quindi siamo noi il problema siamo sempre noi il problema essere noi il problema e ancora non essere la soluzione esatto oltre che peraltro da incendi e quindi da una distruzione a catena alimentata proprio dal cambiamento climatico evidentemente oltre che dai parassiti che proliferano molto di più proprio a caso del cambiamento climatico ma ce ne sarebbe da dire perché però prima dicevo che la cosa è interessante anche per altre ragioni perché io leggendo questa notizia ricordavo distintamente che non fosse la prima volta che si parla in questo livello di dettaglio di questa di questo rischio di moria degli alberi e infatti scorrendo indietro ho trovato articoli menzioni e studi che mostrano come già dal 2020 la cosa fosse arrivata all'opinione pubblica questo è sicuramente il lavoro più ampio e completo siano ad ora ma abbiamo già avuto anni per progettare e valutare delle soluzioni e non è stato fatto per dire nel 2021 più di 140 paesi tra cui brasile cina russia e stati uniti quindi paesi giganteschi hanno deciso di porre fine alla deforestazione entro il 2030 hanno firmato talmente tanti paesi che l'accordo copre il 90 per cento delle foreste del pianeta ma ad oggi 2024 siamo ancora qui a guardarci negli occhi a valutare che no le cose non stanno migliorando ma io ho una domanda si è parlato di certe zone specifiche al mondo mi viene ad esempio in mente la foresta amazzonica nel senso si è parlato di responsabilità o era solo un'analisi poi da cui partire per poi procedere con determinate politiche allora sono sempre analisi da cui partire per perché in realtà questi report sono un mettere le mani avanti da parte degli scienziati e dire noi abbiamo osservato questa cosa però noi non possiamo fare niente in merito siete voi governi che dovete mettere in essere dei cambiamenti che in realtà avete già promesso tra virgolette di fare perché ci sono accordi da anni come dicevamo che dovrebbero fare esattamente quello che serve per salvare questi alberi ma non è ancora stato fatto però per rispondere alla tua domanda il meso america e il sud america sono dei punti più critici del pianeta dal punto di vista della deforestazione me lo aspettavo perché sono anche uno dei punti in cui ci sono più foreste da deforestare appunto perché come chiede cioè non è un caso immagino se chiedevi proprio della foresta amazzonica dato che lo hanno chiamato lo chiamano ancora non lo so il polmone del pianeta terra poi in realtà anche l'africa subsahariana però certo molto nel sud america comunque giusto cioè come facevi notare giustamente sono tutti punti di partenza nel senso questo è solamente l'ennesimo report che ci dice queste cose qua non c'è nulla di nuovo è anche un processo normale all'interno dell'accademia nel senso ovviamente c'è una literature review si continua a studiare si sanno certe cose oggi perché se ne sono scoperte delle altre ma io voglio i colpevoli io voglio i colpevoli i colpevoli siamo anche tu e io basta che ci guardiamo allo specchio attorno a noi siamo noi ma non parlano con noi e siamo ai fish and bits egoli spero di averlo preso ragazzi di solito non me la cavo molto bene con gli sport purtroppo allora adesso passiamo a qualcosa in cui mi sento più a mio agio ok? e cioè la spooky season o a season vorrei dire non ho capito è una reference per i fan di twilight opsì scusate fan di twilight non faccio parte di questa fan base comunque dicevamo spooky season is here e per tutti non fan di halloween appunto spooky season è il periodo di ottobre precedente concomitante con appunto halloween saween per chi è veramente fan e gli piace il gaelico gli piace l'irlandese apprezzo apprezzo io non ho capito è perché è una parola che non conosci dopo te la faccio vedere è molto difficile effettivamente quindi il periodo di halloween collegato insomma ai morti i santi all things not spicy but very spooky quindi per l'occasione vi voglio parlare di corvi i più dark fra gli uccelli a murder of crows esatto intanto perché appunto un gruppo di uccelli si chiama a murder ok? che bello perché già questo li rende super cool come animali è incredibile questa cosa è una figata bellissimo oltre ad essere gli animali più cool del mondo sono anche tra i più intelligenti a quanto pare sono in grado di imitare la nostra parlata sono in grado di utilizzare strumenti bellissimo per il loro vantaggio ma addirittura sembra che si riuniscano per fare delle cose che sembrano dei rituali funerali no cioè è una roba boh non lo so allora se vedete dei corvi disegnare un pentacolo a terra fuggite scappate immediatamente velocemente no allora o scappate velocemente o partecipate rispettando le tradizioni locali esatto esatto comunque non al centro del tra l'altro non sono nella fanbase di Twilight ma un pochino in quella di Harry Potter sì e quindi infatti vi volevo dire non è un caso se si chiamava Ravenclaw giusto per gli intelligenti comunque famous i corvi fanno anche un'altra cosa che è molto umana che probabilmente non potrebbero fare se non fossero così intelligenti cioè portare rancore che è il simbolo maggiore di intelligenza cioè proprio odiare profondamente qualcosa se non hai memoria se non hai capacità di riconoscere pattern rancore non ne porti quindi è così ma la cosa assurda è che il rancore lo portano anche a livello generazionale cioè se conoscevate già il trauma generazionale sappiate che esiste anche il rancore voglio saperne di più ti prego bene allora sappi che c'è un intero articolo del New York Times che ti darà un sacco di dati in più di quelli che ti posso dare io adesso ma intanto ti posso raccontare della storia di Gene Carter un informatico di Seattle che un giorno ha visto dei corvi invadere il nido di un pettirosso e ha deciso di intervenire evidentemente mosso a pietà nei confronti del pettirosso ha detto sai cosa mo lancio questo rastrello per aria così magari spavento un po' i corvi e la smettono di tuonare il pettirosso da quel momento in poi c'è un poster ricercato di questo uomo nel nido praticamente sì Gene Carter credo che si sia un pochino pentito di aver fatto questa cosa perché i corvi per quasi un anno lo hanno letteralmente perseguitato urlandogli addosso quelli che probabilmente in corvese sono insulti oppure qualizzandosi per planarli addosso tutti insieme che poi io mi immagino possono anche essere violenti informazione martyr ma la cosa più bella è che sono arrivati al punto che riconoscevano il bus da cui scendeva lo aspettavano alla fermata c'è un gruppo di mafiosi una cosa mi fa molto ridere ma anche i figli di questi corvi a quanto pare se la tramandavano questa cosa mi dispiace per questa persona però è una cosa incredibile è incredibile comunque è così incredibile che le molestie sono finite solo una volta che il povero Gene ha cambiato casa no è stato costretto si è trasferito non ci credo quindi in tutto ciò io vi dico che questo è il periodo giusto per fare un bel rewatch degli uccelli di Hitchcock e anche di Twilight anche di Twilight di Harry Potter nel dubbio di tutto e questo era tutto vi ringraziamo Linettini e Linettine per averci fatto compagnia anche oggi vi ricordiamo la mail di redazione magari che è redazione-breakingitaly.it ci vediamo più tardi con la puntata di Breaking Italy e domani con Grandi Line che tra l'altro trovate anche in versione audio sul sito